Buonasera, noi siamo molto contenti di inaugurare questa sera questa decima filiale sul Palermo che per noi ha un'importanza fondamentale perché in generale l'inaugurazione di una filiale è sempre un momento molto emozionante, lo è in modo particolare per noi avendo questo legame con il territorio. Peraltro è una filiale molto bella di una location strategica della città di Palermo e ha un ulteriore punto di forza che è quello di avere nei locali adiacenti la sede dell'area riservata alle imprese e l'area riservata a personal, clienti di elevato standing e di sbaglio. Sono certa che questa sinergia porterà ulteriori benefici per tutti i nostri clienti. Noi continuiamo questa strategia di crescere nel nostro territorio per cui ci crediamo. Pensiamo di farlo in modo, puntando più sulla qualità che sulla quantità, attraverso proprio una relazione stretta con il territorio e con i clienti. Anche perché, mi sento di dire come una punta di orgoglio, ormai siamo una delle poche realtà autenticamente siciliane, con il cuore e con la sede proprio in Sicilia. Vogliamo continuare a farlo crescendo con riciclata soddisfazione insieme ai nostri clienti.